Buongiorno a tutti, l'argomento di questa presentazione è il Big Data Mining, ovvero l'analisi di grandi collezioni di dati e riguarda tre aspetti principali, i Big Data, il Cloud Computing e il Data Mining. In questa presentazione vedremo separatamente ciascuno di questi tre aspetti e naturalmente le interconnessioni che vi sono tra di essi. Partiamo dai Big Data, sono collezioni di dati di potenziale interesse per analisti, ricercatori, aziende e così via che hanno tre caratteristiche peculiari. Le dimensioni molto elevate, quindi terabyte o ancora maggiori, quindi pensiamo ad esempio a 200 milioni di DVD o ancora di più, contenuti molto eterogenei, quindi ad esempio immagini, foto, link, testo e così via e un'alta dinamicità, quindi un'alta frequenza di aggiornamento, generazione. Vediamo alcuni esempi di Big Data, possono essere ad esempio i contenuti pubblicati sui social network, pensiamo ad esempio a Facebook, lo storico delle vendite dei prodotti online attraverso siti di e-commerce, le transazioni finanziarie, quindi l'acquisto e la vendita di strumenti finanziari attraverso le borse italiane e estera, oppure le ricerche effettuate da utenti in tutto il mondo attraverso i motori di ricerca. Vediamo un contesto in cui Big Data trova un'applicazione, pensiamo ad esempio a una catena di supermercati con sedi distribuite capitalmente in tutta Italia e l'obiettivo è quello di personalizzare la promozione dei prodotti attraverso dispositivi mobili, quindi ad esempio cellulari o smartphone, utilizzando fonti di dati eterogenee. Quindi l'analisi può comprendere ad esempio considerare quali prodotti l'utente ha già acquistato al supermercato o online, a cosa l'utente è interessato analizzando i suoi profili nei social network oppure la sua posizione geografica, quindi considerando la sua posizione GPS e quindi dove si trovava o da dove proviene. Tutto questo va analizzato tipicamente in pochi secondi, quindi ad esempio quando l'utente accede al supermercato e naturalmente analizzando moli di dati enormi, quindi parliamo anche di 10 alla 21 byte, quindi dimensioni di dati molto molto significative. Per supportare queste analisi esistono le tecnologie come il cloud computing che permettono la gestione e la memorizzazione di dati distribuita, ovvero non centralizzata su un'unica macchina ma distribuita attraverso la rete. I servizi che vengono offerti possono essere focalizzati sui dati, quindi data as a service, focalizzati sull'uso di software specifici, quindi software as a service, oppure finalizzati all'utilizzo di macchine ad alte prestazioni, quindi hardware as a service. I vantaggi del cloud computing stanno nella semplicità con cui posso accedere ai servizi, nell'indipendenza tra la piattaforma cloud, quindi la nuvola che viene utilizzata per effettuare l'analisi e il sistema che invece ne fruisce e la possibilità di demandare alcune problematiche di gestione, ad esempio mantenimento, a terze parti che possono gestire problematiche di mantenimento del servizio. Tuttavia esistono degli svantaggi e in particolare sono legati alla sicurezza e alla privacy, in quanto i dati non sono fisicamente in possesso di chi di genere o di chi è proprietario ma sono distribuiti attraverso la rete, quindi c'è il rischio che informazioni sensibili possano essere violate o usate in modo improprio. Inoltre possono sussistere problemi di affidabilità del servizio, eventuali disservizi legati alla rete o ai fornitori di servizi. Per analizzare queste tipologie di dati esistono tecniche che mi permettono di estrapolare informazione non facilmente predicibile, quindi le cui caratteristiche non sono note a priori, attraverso algoritmi anche avanzati e in queste tipologie di algoritmi siamo chiamati algoritmi di data mining e diciamo appartengono a due principali categorie. I prime sono descrittive e hanno l'obiettivo di costruire dei modelli che mi rappresentano le informazioni nascoste all'interno dei dati in modo interpretabile dall'esperto. I secondi sono predittivi e mi permettono di, partendo da informazioni note, di predire il valore di variabili ignote. Vedremo tra le varie tecniche predittive e descrittive due esempi caratteristici, uno relativo alla classificazione, quindi tecnica predittiva e uno relativo al clustering, tecnica descrittiva. Un esempio di classificazione è il filtro anti-spam, ovvero all'arrivo di una nuova mail il filtro ha l'obiettivo di etichettarla, classificarla come spam o non spam e naturalmente gestirla in modo opportuno. Questa operazione viene compiuta da un modello generato a partire da dati storici, ovvero da un elenco di mail già etichettate come spam o non spam. I dati naturalmente sono stati validati dall'esperto. Per generare questo modello è possibile avvaliarsi di modelli matematici anche complessi, ad esempio è possibile rappresentare i miei dati, quindi le mie mail, in uno spazio multidimensionale e costruire un iperpiano che mi separa gli oggetti, quindi le mail e i dati appartenenti a classi diverse. In questo modo all'arrivo di una nuova mail saprò collocarla nello spazio e capire se si tratta di spam o non spam. Un esempio di clustering è invece la segmentazione dei clienti, quindi i clienti del supermercato vengono suddivisi in sottoinsiemi omogenei in base alle loro caratteristiche, ad esempio se in base al sesso, l'età, gli interessi e così via. Per ciascun sottoinsieme l'obiettivo è pianificare delle campagne di marketing ad hoc, quindi proporgli specifiche tipologie di prodotti o altre. Si possono utilizzare naturalmente algoritmi automatici per il partizionamento dei dati in sottogruppi omogenei. Lo stato dell'arte prevede grandi limitazioni per quanto riguarda gli algoritmi tradizionali di data mining nel gestire grandi collezioni di dati. Tuttavia la grande evoluzione dei servizi cloud-based ci permette di pensare come prospettiva di future lo sviluppo di servizi cloud-based per l'analisi di grandi collezioni di dati e l'uso di piattaforme distribuite che permettano ad aziende e ricercatori anche senza specifiche competenze di utilizzare questa piattaforma. Grazie.